dimostra di avere tutte le carte in regola per sfidare i campioni del poker in tv per un monte premi di 400 mila euro quanto all stars of poker è il primo show televisivo sul poker in italia dove puoi sfidare i campioni della team poker stars come partecipare intorno di poker qualificati ora online solo su pokestars.it e trova la pokestar che in te